Una partita decisamente brutta e noiosa, non poteva dunque che finire senza gol 0-0 quella tra Chieti e Fermana. Passo indietro per i neroverdi rispetto a Civitanova Marche, padroni di casa imbrigliati dalla Fermana della vecchia Volpe Osvaldo Iaconi. Pari che va benissimo ai canarini in chiave salvezza, non al Chieti che non guadagna punti dal quinto posto in una giornata che sembrava sulla carta favorevole. Nel Chieti si rivedono del grosso e Prinari, ancora squalificato e esposito, il tecnico Ronci può rispolverare il 3-4-3 con Di Pietro perno centrale della difesa, l'Axir dirottato nel luogo naturale di esterno d'attacco. Nella Fermana due l'assenze, Misini infortunato, Costantino influenzato, ci sono gli ex Savut e Terrenzio, davanti la coppia Pedalino-Valdès, un centinaio di tifosi marchigiani nel settore ospiti, Volpi al solito semi-deserta. Chieti sbiadito e contratto, la Fermana fa più possesso palla e dà una supremazia territoriale tuttavia sterile. Dopo un tiro di Cossu, la prima offensiva è del Chieti con Del Grosso, che serve al centro a Broso, la girata del centro avanti, Calabrese, è fuori di un soffio. La Fermana risponde poco prima di metà tempo, con una conclusione strozzata di Naziconi, Placidi blocca. E soprattutto al ventunesimo, quando il sinistro di Omiccioli mette i brividi a Placidi, complice una deviazione, palla in angolo. Il primo tempo si trascina stancamente senza sussulti, fino ai minuti finali di frazione, quando il Chieti si ridesta. Savut esce a vuoto sul traversone teso e forte di Del Grosso, Cossu anticipa Maschio e rischia l'autogol. Nel primo e unico minuto di recupero, Savut blocca il tiro di Prinari. Ad inizio di ripresa, il Chieti prova a forzare i ritmi, ma la vehemenza nero-verde si sopisce ben presto, tanto che alla prima avanzata sono propri marchigiani a rendersi pericolosi, Pedalino al nono impegna Placidi. Se il primo tempo ha consegnato pochissimo la cronaca, il secondo è anche peggio. La girandola dei cambi non giova a nessuna delle due squadre, perfetti e diop per Maschio e Laksir. Iaconi mette dentro Tozzo e l'ex terramano Luca Bellucci. Nel mezzo l'ultimo sussulto con il tracciante del solito pedalino sopra la traversa. Nel Chieti, Orlando e Del Grosso si danno da fare, ma non ci saranno tracce tangibili dalle parti di Savut. Inevitabile lo 0-0 e così la marcia verso il quinto posto subisce una sensibile frenata. Si sono difesi addirittura, una certa volta con la linea 6, con gli esterni che si abbassavano. Sono venuti per prendersi un punto e ci sono riusciti. Noi abbiamo fatto, secondo me, fino a tre quarti di campo bene, cercando di aggirarli da una parte all'altra. Con Orlando e Del Grosso li abbiamo messi in grande difficoltà. Il problema è che davanti siamo un po' sterili, soprattutto perché c'è solo il broso che cerca di dannarsi l'anima, tenere le palle e far salire. Quando ti mancano Michele Vano, ti manca Vittorio Esposito, è normale che magari perdi un po' il quiz, perdi quel giocatore che può far saltare l'equilibrio di una gara. Però io ragazzi faccio i complimenti perché stiamo giocando da squadra. Stiamo cercando di uscire da quello che era una situazione precaria prima ed è difficile arrivare alla fine, quindi ipotizzare già la salvezza diventa un problema. Ogni domenica dobbiamo fare punti comunque vengano perché si deve perdere il meno possibile. Oggi abbiamo avuto di fronte una signora squadra, non a caso questa squadra ha vinto a Civitanova, nonostante quello che possono dire da quelle parti per le varie traversie che vivono, ma ha dimostrato che ha delle ottime qualità. Grazie a tutti.